Adesso cambiamo argomento, volevo solo aggiungere una nota a quanto ha detto il professor Noci prima, che forse è un aspetto che non è stato sviscerato abbastanza. Anch'io sono rimasto perplesso un po' dalle risposte che riguardano l'uso dell'intelligenza artificiale, ma guardate che negli Stati Uniti le rivendite, cioè i distributori materiali, già utilizzano ampiamente dei sistemi di intelligenza artificiale. Faccio semplicemente un esempio, quando il professor Noci diceva che bisogna fornire un servizio, uno dei servizi offerti dai distributori negli Stati Uniti è quello di coniugare l'intelligenza artificiale con la progettazione, non soltanto per il singolo privato che viene a comprare un materiale o cerca di risistemare la casa, ma anche per i progettisti, gli ingegneri, gli architetti. Quindi sono già dei sistemi che offrono un servizio a chi arriva, quindi non è una roba, c'è un'intelligenza artificiale chissà che è, viene già utilizzata, pensateci. Cambiamo argomento? Prego, professor Bubbio, ricambio generazionale. Buongiorno a tutti, siete fortunati, ho solo due minuti, mi saluto e me ne va. Allora, il tema ovviamente è un tema che richiederebbe molto più di due minuti. Penso che Virginia abbia pensato di adsegnarmelo perché sono anch'io, data l'età anagrafica, in pieno passaggio generazionale. E quindi, fra l'altro, da papà a figlia, che forse è più complesso che da papà a... Però è difficile dire, non ho elementi per poter... non ci sono ricerche in proposito. Comunque è sicuramente un tema molto delicato, è un tema che negli ultimi dieci anni molte aziende hanno dovuto affrontare. Qualcuno l'ha affrontata con anche successo, qualcun'altra un po' meno. E non c'è una ricetta unica. Ci sono tante cose che vanno ricordate. Siccome abbiamo poco tempo, io vi anticipo le tre cose che non potete assolutamente dimenticare. La prima cosa che dovete considerare è che a chiunque lasciate l'azienda, quindi che sia un manager, che sia uno della famiglia, che sia come qualcuno gli chiama i famigli, che sono quelli che non sono della famiglia ma è da tanti anni che sono in azienda, ecco, chiunque voi lasciate l'azienda, verificate che la prima cosa che deve avere è la passione. Perché se uno non ha passione per l'attività che svolge, questo vale, lo dicevamo anche prima, mentre andavamo a questo incontro, se uno non ha passione, lasci perdere. Sì, sì, salto, salto. In gola non la posso mettere. Se mi costringete in gola, diventa complesso poi emettere qualche suono. Allora, cosa molto importante, e devo dirvi che io in passato pensavo che fosse un problema di competenze, la cosa più importante. Le competenze sono importanti, ma non come la passione. La passione è quella che fa la differenza. Ed è chiaro che su certi business è più facile appassionarsi, su altri business è un pochettino più difficile, dipende anche dai prodotti, da come si vanno a configurare. Il secondo elemento che dovete portare a casa da questo flash sul passaggio nazionale che sto facendo, è il concetto della trasparenza. Questo vale per l'azienda in generale. Se voi volete che le persone in qualche modo siano così anche attente e motivate e magari anche appassionate, dovete dare trasparenza. Per esempio, se l'intenzione è quella di mai e poi mai lasciare l'azienda a uno che non sia della famiglia, lo dovete dire. Perché quei poveretti che sono in un'azienda, perché queste sono cose che mi vengono confessate poi in fase di confessionale, prima che io dia la soluzione. Allora, prima della soluzione mi chiedono, a quante avemarie devo dire? Dipende. Dipende, perché se ti aspettavi di diventare o avevi l'idea di avere qualche possibilità di, forse lascia perdere. Ecco, tenete presente che ovviamente è il fatto di poter arrivare a certi livelli anche nelle piccole e medie imprese, che non sono livelli gerarchici. Le strutture organizzative, se le avete, buttatele via. Ci sono i ruoli, non le strutture. Ci sono i ruoli, basta. No, ognuno ha dei ruoli e deve svolgere al meglio quei ruoli. E per svolgerli, certe volte, la cosa molto importante è quella di crescere sul piano professionale. E se voi date alle persone la possibilità di crescere sul piano professionale, fantastico. Vedrete, cambiano da così a così nel loro comportamento. Terzo e ultimo elemento, poi dopo vi faccio vedere le slide, ma le vediamo proprio, starete male, vi faccio venire un attimo di sbandamento da velocità di percorso. La terza cosa, importantissima, dopo quelle due che ho detto prima, è la meritocrazia. Allora, provate a pensare se queste tre cose che vi ho detto io, passione, prima cosa, seconda cosa, abbiamo detto, la grande trasparenza e meritocrazia, se queste tre cose venissero applicate non solo nelle aziende, ma anche a livello politico. c'è, cosa stiamo qui a fare? Facciamo queste tre cose qui, il mondo va meglio. Non c'è poco da fare, no? E che il mondo va bene, perché queste tre cose qui, proprio le, certe volte le dimentichiamo. Anche se, ripeto, molti di nome, la passione è l'unica cosa qui veramente, il sentimento qui dando un seguito elevatissimo. Ma allora, come vedete, lo diciamo proprio molto rapidamente, secondo me nei passaggi generazionali il vero problema è individuare il delfino, se c'è o non c'è. Se c'è, capire se è veramente un papabile, se non c'è, andarlo a cercare. Se no, qui vedete, c'è un bellissimo percorso, non ho tutto, vedete, tutto con frecce e freccettine, passaggi razionali da fare. Sapete quella cosa? Vendete l'azienda. Se non trovate il delfino, che cacchio, cioè, no? Vengono lì, professore, cosa devo fare? Se non li trova lei, gli esperti in questo settore, io che ne so, mica frequento n miliardi di aziende per cui riesco, e poi vado a fare lo sgambetto portandovi alla persona. Devo cercare tu, devi risolvere tu il problema. Scusate, mi scarico un po' il problema sull'imprenditore, perché poi ci deve convivere lui, capite? E abbiamo fatto certe volte anche dei recuperi di persone che neanche si immaginavano che erano all'interno, che avevano anche fatto qualche cosa di non, però erano molto legate all'azienda. Il fatto che diceva prima, interessantissimo, importantissimo, Milano non è Cremona? Se vi posso dire, è molto meglio lavorare a Cremona che a Milano. Capite? C'è un ambiente completamente diverso. Adesso ho detto Cremona perché lui è cittadino. Ma se io penso, ho avuto la fortuna di girare molto l'Italia, e quindi conosco abbastanza bene tutta una serie di realtà. C'è, Milano non ci si saluta. In certi posti, buongiorno, dicono che cazzo è questo? Rimanete anche colpiti perché vi salutano persone che neanche ho pensavate. Allora attenzione perché su questi aspetti, che sembrano aspetti marginali, invece si gioca il successo dell'impresa. Perché il saper gestire in modo corretto queste cose è molto importante. Allora, vediamo che cosa avevo preparato per voi. Questo. Questo è il concetto sul quale assolutamente non possiamo venire meno. Io sono riuscito certe volte a condurre bene dei passaggi nazionali perché il problema non è le persone, ma l'azienda. Io devo fare il bene dell'azienda. La mia finalità è quella. E ripeto, se non riesco a trovare soluzione, vendo. Che fra l'altro, certe volte quando si vende a condizione ancora di azienda non decotta, si vende anche bene. Il problema è quando uno svende, che allora è un casino. Ma su queste cose, più si aspetta e più si svende. Questo ve lo do per esperienze concrete. Ecco, questo è per cercare di dare continuità all'azienda del tempo. Di recente, vi do una teoria che così è molto bella, noi qualche anno fa studiavamo nel Long Life Company, cioè le aziende che non finiscono mai, che vivono oltre i cent'anni. e qualcuno diceva, mamma mia, guarda questo qui, più che altri cent'anni. Oh, che bravi, no? Le faccio uno per tutti. Fernet Branca. Fernet Branca. 1865. E dal 1865 che qualcuno ha il coraggio di bere il Fernet. C'è una certa eccetera. E ho scoperto che sono soprattutto gli argentini. E vi racconto questo, che trovo più bello che il passaggio. Allora, la cosa molto interessante, no? La cosa molto interessante è che vendono in Argentina perché c'è un barman che ha inventato il Fernandito. Il Fernandito è Fernet e Coca. No? Non so se ripeto la mia scela. Fernet e Coca. È una roba, no? E beh, con quello che mangiano gli argentini, l'asato, è un asato via l'altro, quindi voglio dire, è probabile che abbiamo bisogno noi di un po' di Fernandito. Allora, e questo qui è una cosa che poi imparate, vi direto sempre, il barman bravo deve sapere cos'è il Fernandito. Io quando vado nei bar mi dà un Fernandito? Allora, quelli che invece rimangono così, li classifico subito. Incompetenti. Allora, per individuare i defini, questo vale la pena anche perché, può valere la pena anche per voi guardandovi allo specchio per capire se siete adeguati oppure no. Io l'ho applicato anche a me stesso. Sono tre cose importanti. Prima ancora la passione. Io, certe volte riesco a fare, a chiedere ritmi solo perché c'è questo elemento molto importante. le competenze e le competenze, per l'attenzione, sono di due tipi. Sono le competenze tecniche specifiche di settore, so tutto sul mattone e ci sono invece le competenze manageriali. So come si pianifica la costruzione e la produzione di un mattone. Due competenze completamente diverse. Le prime normalmente ci sono, quando io lavoro in me, le seconde non è detto. E' anche per questo che poi con Virginia abbiamo, qualcuno di voi ha anche ricevuto la proposta, pensato di fare Utrede Education. Non perché pensiamo che ci siano cose strane, cose molto basilari. Sapete una cosa micidiale? Se oggi voi non pianificate, tra quattro anni non ci sarete più. Capite? Inutile che facciate segni strani, mettete le mani da qualche... E' così. sapete perché? Come si fa a digitalizzare un'azienda? Quanto tempo ci vuole, secondo voi, per digitalizzare un'azienda? Perché il ragazzo fa presto, eh? Eh, eh, i dati. quando ci sono quelli dell'IT che dicono percorri, tal cosa qui non si può mica fare. Come si può mica fare? E quelli che vi dicono accenda, spenga e riaccenda. Siamo nel 2025 e c'è la gente che dice spenga e riaccenda. Questi sono quelli proprio dell'ADP, che era elaborazione e dati possessing, quelli della vecchissima generazione. Poi sono diventati IT, però alcuni non si sono evoluti. E' cambiata la sigla e basta. Allora, ecco, questa è una cosa molto importante. Due tipi di competenze. L'ultima cosa, quella più importante di tutti che dovete verificare perché più ce n'è e meglio è, è questa. La capacità di conscettualizzare. Non lo dico io, lo dice uno psico americano che l'ha detto 40 anni fa e da 40 anni fa nessuno è. Non l'ha detto il nome perché è un nome un po' così. Robert Ketz. E allora capite, se uno dice Robert Ketz, dice che Ketz, che Ketz, che Ketz è? E dice, no, è Robert Ketz e si legge Ketz. Allora, però questo personaggio ha detto una cosa fantastica. La cosa più importante di un amministratore delegato è l'ultima. La capacità di concettualizzare. Stan lì a parlarmi cinque ore e io alla fine mi dico, è questo. Questa è la capacità di concettualizzare. E ce n'è qualcuno che ne ha in abbondanza e qualcun altro che ne ha abbastanza poca. Ma sapete che ne ha poca? Vi do il segreto? Sapete qual è il segreto? Ascoltare. Se voi non ascoltate, cosa concettualizzate? Potete concettualizzare solo se ascoltate. Allora, se ascoltate, sì che no, magari concettualizzate sbagliato, ma concettualizzate, sennò cosa fate? Ecco, queste sono le tre cose fondamentali che io devo cercare nel Delfino, ma devo cercare in chiunque voglio portare al vertice dell'azienda. Adesso, che poi tutti siano dei mostri nella concettualizzazione, questo non serve, capite? Non ho bisogno di dieci Einstein in azienda. Forse me ne basta uno, ma forse non neanche bisogna di uno, però ho bisogno di qualcuno che sa, no? Ecco, la cosa molto, molto importante, finale, è un po' questa, no? La trasparenza. Questo è un consiglio che vi do, poche regole, molto chiare. sapete cosa trovo io nelle aziende? Tanto regole, molto poco chiare. Cioè, è esattamente l'opposto. Invece di poche regole, molto chiare, tante regole, sapete come si chiama tante regole? Un certo Max Weber le chiamava burocrazia. È una burocrazia, tante regole, poco chiare. Per cui, sono io che comando, chi? Il burocrate, che gestisce le regole non chiare. Ecco, sul passaggio nazionale, è evidente che se ci sono regole non chiare, i casini sono all'ordine del giorno. Io direi che mi fermerai anche qui, anche perché direi altre cose, ci sono poi altri concetti, ma i tre importanti, vi ho detto prima, poi abbiamo visto questa cosa del profilo del delfino, che è molto importante, perché è il profilo di un manager comunque che ha l'ambizione di essere ad alto impegno e livello nell'azienda, con delle responsabilità ampie, ripeto, buttate via le strutture organizzative, distribuite bene invece le responsabilità, perché se le responsabilità non sono di servire di un modo chiaro, è un casino, questo è proprio, viene dal cuore. Per il resto, io vi lascio, io vado a occuparmi del mio passaggio generazionale che è ancora in corso, e quindi mi occuperò un po' di quello anche io con una certa attenzione, però capite, sono tranquillo, perché ho trovato la passione, capite, l'Alberto Galgano ha una figlia, lui si chiamava, che lui è Alberto, e aveva la figlia Cristina, come io ho Cristina, la Cristina Galgano è una donna eccezionale, si è fatta al mazzo sulla qualità che uno dice, porca, una donna che per qualità così, in generale è un tema molto bello, qualità applicata alle aziende, total quality, capite, ricordatevi sempre se volete capire cos'è la qualità andate a leggere la macchina che ha cambiato il mondo, di due dell'MIT, esattamente, e sapete qual è la macchina che ha cambiato il mondo? Nel bene e nel male, Toyota, Toyota, può piacere, può non piacere, ma è Toyota, Toyota, punto, buon passaggio, non so di che cosa, ovunque. Applausi